Carissimi amici, salve a tutti, carissime amiche mie, salve a tutti, benvenuti, benvenuti sul canale. Sono un po' sconcertato, veramente attonito. Sul caso di Pierina Paranelli qualcosa sempre di più non torna, però io che sono una mente libera vado avanti. La mente libera è libera perché può sbagliare, ma sbaglia nella libertà di poterlo fare. E allora mi dovrei adeguare anche io dicendo, vabbè, parliamo di che cosa vogliamo parlare. Vogliamo parlare di Luis perché sta in carcere, vogliamo parlare, non lo so, della CAM della farmacia, 22.17, del condomino, del signor Neri. Di che cosa vogliamo parlare? Non vogliamo parlare come non se ne parla da nessuna parte della CAM delle 22.20, della farmacia. No, mattino 5, storia italiana, la vita in diretta, niente. Bene, si va davanti pure di questo passo, ma ovviamente la sfigazione c'è. Ma su questo ci ritorneremo. Volevo brevemente fare qualche commento. Al mattino 5, di ieri, ho visto un'intervista a Giuliano, che anche nella sua moderazione, diciamo, avanza queste perplessità sul fatto che la verità non è mai raccontata dagli altri. Dice, aspettiamo il quadro completo. E va bene. Poi c'è l'intervento dell'avvocato Lunedèi, che puntualizza come ci siano diversi, una pluralità di indizi che mantengono in carcere il da Silva. Però c'è anche poi l'intervista a Chiara, che conferma, dice sì, io confermo perfettamente, che Loris mi dice che prendeva questi farmaci pesanti quando sentiva la necessità di uccidere. Ovviamente è suggestiva questa cosa qui. Però torniamo all'avvocato Lunedèi che dice, ma voi pensate che il da Silva Luiz sia in carcere soltanto perché passa o non passa sotto quella camera delle 22 e 17? No, ci sono una serie di indizi, penso intercettazioni, verifiche di altro genere. Ora, su questo sono d'accordo perché non è che un Tribunale della Libertà soprattutto non valuti questi aspetti. Però io dico, possibile mai che dietro questa pluralità di indizi non vi sia nessuno della difesa a dire, guardate ma nonostante questi indizi c'è quel video delle 22 e 20 che ritrae un uomo incappucciato che va via, la via del ciclamino. Per cui, se anche fosse alle 22 e 17 un Luiz che si entra dopo aver buttato il coltello si dice e che si entra con qualcosa sotto il braccio, ma poi cosa fa? Tre minuti dopo chi è quello che esce? Un complice? Chi è che esce e se ne va? Non è stato detto. Tanto più che viene fatta ascoltare poi, sempre da quella cam che ha registrato pure le grida di Pierina, un tumore, un tumore secco tipo la porta tagliafuoco che sbatte, un tumore secco alle 22, 16 e pochi secondi. Ovviamente, lì, questo tumore secco lì giù, se Luiz fosse uscito a buttare il coltello, parliamo delle 22, 16, 20, 25 secondi, sicuramente secondo la teoria della procura stava fuori. E allora lì sotto chi è che ha fatto questo tumore? Chi era? Era un complice di Luiz che lo attendeva? O più probabilmente era semplicemente l'assassino che stava completando quello che aveva fatto, magari cambiandosi cose del genere, per poi alle 22 e 20 andare via. E' un altro tassello, un altro elemento, un'altra suggestione in più per dire questa cosa qui c'è, ma non se ne parte perché evidentemente nessuno ha interesse a tirare l'attenzione su questo aspetto qua perché è un'arma a doppio taglio, perché da una parte potrebbe essere l'ancora di salvezza per tutti, e per tutti dai sospetti, però dall'altro lato ci potrebbe essere qualcuno che dice ma se costui non è un pazzo criminale che è andato lì per caso, potrebbe essere stato mandato. Quindi ecco perché nessuno ne parla. Quindi la preghiera che io manderei agli illustri conduttori di mattino 5, pomeriggio 5, la vita in diretta 1 mattina, ore 14, storie italiane, è quello di dire Ma dove siete? Cioè quando si tratta di questo caso, di questo format, quei 15-20 minuti dedicati al fatto questo qui, fra gli altri fatti di cronaca, ma perché non prestate attenzione a questo fatto qua che è dirimente? E proprio perché nessuno degli interessati ne parla, è importante proprio per questo. Nessuno può dire no ma quello non esiste. No esiste, è un filmato che esiste, autentico, del 3 di ottobre, ore 22, è stato detto più volte 22 e 20, i minuti sono stati oscurati, ma comunque in tutti i casi è in quella fascia oraria e questo uomo è incappucciato da lì, da lì che esce. E quindi questo è un appello, è un appello. Poi è stato detto anche di Valeria, vedi Valeria, Valeria, voglio dire due cose su Valeria. Valeria in questa vicenda è una mina vagante. Perché? Perché certamente non sapeva della relazione così come si è configurata, per cui adesso è una mina vagante. E quindi combatte contro Loris e Emanuela a testa bassa, dicendo ma sono stati loro, perché poi lei mi diceva, attribuisce a Emanuela, il fatto che lei sia stata in bagno una decina di minuti e dice e allora se lei è stata in bagno una decina di minuti può darsi che Loris sia sceso giù a fare la mattanza. Ora, per carità, io che mi sforzo di essere oggettivo sulle cose, dico, non mi sembra una cosa credibile nemmeno questo, perché è ammesso che non concesso che abbia detto sono andato in bagno anche dieci minuti. Ma è possibile che questi dieci minuti siano coincisi con i dieci minuti in cui Pierina stava rincasando e quindi giusti quei dieci minuti per scendere, uccidere, mettere a posto e salire. Se fosse andato in bagno cinque minuti prima o cinque minuti dopo non si poteva fare niente. Capite come questa roba qui di andare contro ad ogni costo sia poco credibile. Allora io dico a Valeria Bartolucci, giustamente uno lotta per salvaguardare Lewis che probabilmente magari dice non è stato lui. però se uno difende Lewis non c'è miglior difesa che dire l'assassino è andato via, è uscito alle 22.20. Quello è tabù, non si dice. Si preferisce dire No, guardate, è stato Loris profittando di una semicomplicità di Manuela che è andato in bagno. Possibile che ci si deve adampicare così sugli specchi. E poi un'altra cosa voglio dire. Queste sono accuse terribili, dirette, no? Di omicidi eccetera. Ma è possibile mai che si va a fare una causa per stalking e per il fatto che Valeria ha tirato i capelli si va a fare una causa e con queste accuse qui terribili si dica no, vabbè, ma quella Valeria sai com'è, è il canto del cigno, sì, vabbè, ma dice le cose tanto per dire. Ma sono accuse terribili alle quali se uno veramente è innocente e straneo alle cose ma uno si deve questi sono i motivi per fare querele cose perché sono accuse specifiche voi immaginate che ve lo dicono a voi stessi no, uno va in tv e dice Pinco Pallino nome e cognome è l'autore del delitto e beh, allora uno non reagisce come mai in questo caso non si reagisce allora ecco che secondo me la procura ecco alla luce di questi contenuti e allora farebbe bene ad aprire un fascicolo un procedimento penale dire io rifaccio l'avviso di garanzia perché c'è questo testimone c'è questa persona che accusa direttamente di omicidio c'è un fascicolo aperto che poi siano delle cose millantate non vere cosa dire che questa persona che è accusata verrà condannata a sua volta però qua si fa finta di niente cioè qua troviamo una Valeria Bastolucci che ormai senza mezzi termini ma proprio senza mezzi termini dice lui ha ucciso con 29 coltellato coperto dalla dalla sorella e anche magari la nipote facendo finta di non sapere niente e non si reagisce la procura dice non sappiamo niente e i diretti interessati accusati di questa roba qua dicono va bene ma non fa niente quindi dice soltanto sono scaramucce come se uno avesse detto brutto e antipatico solo questo e veniamo poi alla vita indiretta ho visto pure la vita indiretta ieri anche la vita indiretta con Matano zero ma non è colpa di Matano è colpa di chi prepara le scalette le cose non c'è questo filmato delle 22 e 20 con il probabile killer il probabile assassino di Pierina che se ne va zero ignorato del tutto fanno vedere comunque sempre cose interessanti cioè si ritorna di nuovo su quelle intercettazioni in questura che anche lì è una chiave importante perché giustamente si dice in trasmissione ma perché tutta quella preoccupazione anche da parte di Emanuela di dire sconvolta così di dire ma adesso ci scoprano ci arrestano che ne sarà di noi ci arrestano ci scoprano noi che si arrestano noi che ne sarà di noi cioè questa preoccupazione tutta volta su se stessa su di loro è a poche ore a poche ore l'ultimo momento della suocera che non è nemmeno una parola di dire ma chi può essere stata ma che disgrazia ma poverina mia suocera ma chi sarà mai cosa è successo niente che riguardi Pierino niente ma solo io 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 solo se stessi solo che ne sarà della nostra relazione ci verranno da restare è qui che è la chiave anche della 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 situazione quando lui si dice ah ho capito ma quindi io tu e loris cioè mette quest'ipotesi di arresto però con tutti e tre perché tutti e tre me lo sono chiesto tante volte perché dice tutte e tre noi come se loro tre fossero a conoscenza di qualcosa come se avessero partecipato a qualcosa perché non dice io tu loris e valeria ad esempio visto e considerate che valeria è la moglie valeria è come se fosse messa da parte quindi poi un'altra cosa che è stata fatta anche notare in trasmissione ma per quale motivo si sussurra e si bisbiglia si bisbiglia e si sussurra magari ecco per cercare se sono microfoni non ci sentono ci bisbiglia ma per quale motivo ma voi vedete quando una cosa per vedere se è giusto o meno voi vi dovete mettere nei panni no immaginate voi stessi di essere chiamati in un commissariato di polizia per cose in cui voi non c'entrate cioè hanno ucciso qualcuno nel vostro condominio vi chiamano e voi state lì in sala d'attesa con un altro condomino un amico qualcuno lì ma per quale motivo al mondo dovete sbigliare a questo vicino o così state solo voi due perché non si parla a voce normale io parlerei a voce normale se non c'entro se sono puliti io dico ma come mai siamo qua ma chissà come mai ci hanno chiamato mi dispiace per questo tizio che è morto è stato ucciso ma io non capisco perché siamo qua ma questo bisbigliare questo non voler far capire è molto strano è molto strano e poi e poi ha un'altra cosa che dice non ricorda che ora è uscito l'Odisi ieri non ricorda che ora è uscito l'Odisi ieri ora su questo punto è vero che sono stati fatti degli accertamenti poi in cui sembra che una telecamera stradale intorno alle 23 veda l'auto di 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 loris però questo non è che serve a collocarlo in casa che che ne dica il consulente Barzani perché se è vero come è vero che nella ordinanza di carcerazione di luis si parla di alibi impropriamente a mio avviso di alibi inattaccabili perché là non c'è alcun alibi sono cose dette cioè io sto con te tu stai con me non c'è nessun elemento oggettivo che lo dimostri se ci riferiamo ai cellulari i cellulari se stanno lì stanno lì ma non sono collegati effettualmente alla persona fisica quindi ma c'è di più i dubbi di far venire Valerio quando dice Emanuele forse è andato in bagno dieci minuti ma non è quello che sarebbe una cosa un po' così degli ultimi tempi ma è proprio la nipote quella nipote che sarebbe l'ancora di salvezza ma è anche è anche un'ancora che che non ha fatto la sua funzione all'inizio di ancoraggio perché dice due cose contro Zio Loris due non una due la prima dice 22.05 22.10 vedo Zio Loris che scende vicino alla porta forse chissà che sta scendendo perché vedo l'orologio da parete che segna quell'ora quindi già il ricordo legato a un'immagine è un ricordo buono perché il ricordo per immagine chi è del campo della psicologia lo sa meglio di me che il ricordo fissato in un'immagine è migliore si cristallizza però forse ha guardato male bene però lei dice anche un'altra cosa dice Zio Loris è sceso poco dopo la fine della riunione dei testimoni di Geova 15-20 minuti dopo questo dice e ci siamo sempre con le 22.05 22.10 perché perché la riunione dei testimoni di Geova finisce esattamente alle 21.45 quindi siamo sempre lì ok e quindi i dubbi per me rimangono anche in questo caso qua ora quindi nessuno parla però di di questo fatto qua della telecamera del filmato delle 22.20 su questo vedete non so come fare voi secondo me siete i testimoni di questo canale per cui postate magari commenti sotto altri canali anche magari su quelle delle rai di mediaset per evidenziare senza alcuna polemica per carità perché questo è un dato neutro non è contro nessuno anzi potrebbe essere a favore cioè evidenziare questo dato neutro che non viene data importanza a questa figura che dopo il delitto esce e si allontana dovrebbe essere come è stato detto 22.20 è un uomo incappucciato c'è addirittura quel tumore secco delle 22.16 e 20.25 secondi che lo testimonia ancora lì sotto ora potrebbe essere l'ancora di salvezza di Lewis ma anche facendo anche comodo agli altri perché se questo è l'assassino magari è un assassino che viene da fuori che magari non c'entra niente che chissà per quali motivi aveva sua sponte contro Pierina che non sono emersi può essere perché no sarebbe c'è il motivo anche fondamentale della difesa perché questa persona non si sa chi sia non si è riconosciuto nessuno magari potrebbe essere anche uno straniero che si è andato via chissà da quanto tempo ma potrebbe essere anche se è straniero potrebbe essere un fuoriuscito uno all'assassino ad esempio all'assassino per Zene un musso san carè potrebbe essere perché no dice ma ma poi uno qualsiasi che che va sotto i garage certo ma perché c'è quell'altro fatto di cronaca proprio che se ne parlava ieri di quel ragazzo di 16 anni che è andato sotto proprio un condominio vicino dei garage e ha massacrato con una mazza da baseball ha massacrato un uomo sembra casualmente sembra perché non può esistere può esistere questa cosa qui può essere lo strumento di difesa ideale di dire eccolo altro che luis eccolo l'assassino però nessuno ne parla né gli organi di informazione né la difesa di luis né ne fanno cenno loris manuela non ne fanno cenno ed è incredibile questo perché sarebbe come dire l'uovo di colombo sarebbe la soluzione ideale e sarebbe magari ecco come diceva Barzani prima edizione diceva c'è qualcuno venuto da fuori qualcuno che non c'entra con l'ambito familiare perché no e allora perché nessuno lo indica questa cosa è saccapricciante è preoccupante questo fatto che nessuno ponga l'attenzione su quest'uomo che esce alle 22.20 cioè sette minuti dopo il delitto che esce dall'assutto è saccapricciante preoccupantissima questa cosa qui e perché nessuno non dice niente allora uno deve pensare come suggestione come suggestione uno dovrebbe pensare che non compiere dirlo perché perché poi magari gli inquirenti dicono ma quello è un fuoriuscito mentale che ha fatto così le cose perché le voleva fare tanto peso o o magari è stato mandato da qualcuno o magari è un sicario che è stato pagato per fare qualcosa ecco e allora è quello il vero mistero di questo caso se uno veramente è innocente specie se sta in carcere come sta in carcere Lewis nel momento in cui oggettivamente oggettivamente è a disposizione questo filmato vero autentico oltre a dire Lewis non è lui che passa sotto la telecamera delle 22 e 17 perché ci sta il condomino signor Neri che viene dal base quindi probabilmente è lui che passa oltre a dire non poteva scendere perché stava sul divano così lo certifica la moglie Valeria oltre a queste cose qui ma perché non si indica anche c'era quell'uomo delle 22 e 20 che è l'assassino che esce tanto più che nel momento in cui la procura dice che Lewis probabilmente è riuscito a buttare il coltello alle 22 16 e pochi secondi si ode un rumore abbastanza forte tipo tipo porta tagliafuoco che sbatte qualcosa del genere lì lì sotto al garage chi è il complice o è l'assassino però nessuno ne parte allora mi sembra strano e io continuo a dirlo finché qualcuno andate per piacere tutti voi che mi commentate sotto i siti della RAI di Mediaset a dire vogliamo sapere questo dato neutro per quale motivo non viene approfondito approfondito per quale motivo è come se si cercasse la via di uscita in un labirinto quando invece non si fa una linea retta che è quella più facile quindi ed è inutile ecco che poi qualcuno pochi per la verità grazie a Dio dicono no ma vabbè ma cosa c'entra se gli inquirenti non lo dicono se la televisione non lo dice se quello non lo dice se non è scritto non c'entra c'è questo atteggiamento della verità che deve scendere dall'alto e senza che uno possa giocare questo è un dato oggettivo questo non è un'opinione amiche mie non è un'opinione non è che io dico io ho l'opinione che secondo me una persona 6-7 minuti dopo il delitto è andata via tutti inrappucciati è una mia idea no non è una mia idea è un dato oggettivo che un uomo probabilmente pochi minuti dopo il delitto sale da quello scivolo quindi a pochissimi metri 4-5 metri dal corpo di Pierina e si allontana tutto incappucciato non è nessuno si è riconosciuto nessuno dice sono io cioè nessuno ne parla e quindi mi affido anche a voi amiche mie affinché possiate sollecitare anche gli organi grandi di informazione a puntualizzare questo aspetto se l'assassino può essere costruito che esce alle 22.20 e perché nessuno ne parla né gli organi di informazione né tantomeno ne discutono coloro diciamo che sono vagamente sospettati e nemmeno e nemmeno diciamo la difesa di Luis da Silva quindi questo è tutto ne riparleremo ancora vedremo se qualcuno andrà a questo nocciolo perché il nocciolo è questo qua non se ne parla si gira attorno 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 non si va a questo punto ed è brutto ed è terribile questa cosa speriamo bene che se ne parli un abbraccio grazie condividete il video in una maniera massiccia grazie vi voglio bene un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti